Il club Ionico nel pomeriggio di venerdì ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante argentino Dennis Stracualursi. Il centravanti classe 87 è già in riva allo Ionio dalla scorsa settimana. Dal comunicato ufficiale della società si apprende che il calciatore ha rispettato la quarantena come da protocollo ed è a disposizione di Giuseppe La Terza. Stracualursi giunge a Taranto dopo l'ultima stagione disputata nel campionato argentino di serie B nelle fila dell'Atletico de Raffaela, squadra della sua città d'origine, ma vanta un prestigioso curriculum nella massima serie argentina con le casacche del Tigre dove si è laureato capocannoniere nel campionato di apertura del 2010 con 11 reti del San Lorenzo, della Nusse e dell'Aldo Sivi. In carriera ha militato anche nei campionati di Colombia, Emirati Arabi e in Ecuador dove con la maglia dell'Emelec ha vinto anche il campionato nazionale per straqualursi anche un'esperienza in Europa nella stagione 2011-2012 con l'Everton in Premier League. L'ingaggio del sudamericano segue quello del terzino destro Robert Seu, classe 2002 di nazionalità albanese giunto in prestito dalla Carrarese, Seu è già a disposizione di mister La Terza dopo un periodo in cui ha svolto parte della preparazione con il Rosso Blu scendendo in campo anche nell'allenamento congiunto di giovedì contro l'Arset Labor Grottaglie. Robert, nato a Carrara, vanta 15 presenze con la nazionale albanese Under-19. Intanto nella mattinata di venerdì il difensore Antonio Ferrara è stato operato dal dottor Volpe per la lesione del menisco esterno del ginocchio destro. Il calciatore tra pochi giorni inizierà il lavoro di fisioterapia e sarà pronto a scendere in campo abile e arruolabile tra meno di un mese.